E lo sport in Lombardia come sta? Sta abbastanza bene, ci sono grandissimi atleti, vive di volontariati, di gente che è appassionata e dà una grossa mano alle società, ci sono bisogno di fondi perché le società, delle 22.000 società hanno veramente bisogno di un grande aiuto. Quindi il mio obiettivo e il mio scopo è quello di trovare delle risorse da poter mettere nel mondo sportivo. Perché a dove venire a tirare la giacca a Caravaglia? Esatto, ma devo dire che mi sta dando una grandissima mano sia sull'impiantistica che sull'Atlet Sport e su altri bandi che sono usciti. Abbiamo fatto veramente tanto in questi due anni grazie soprattutto al Presidente Maroni e all'Assessore Caravaglia e soprattutto in questi giorni che si parla di bilancio non si scorda mai dello sport.